Siamo al Salone del Risparmio, siamo in compagnia di Marco Romani, responsabile advisory unit linked di CNP Partners. CNP Partners attiva il risparmio investimenti in Italia dal 2012, come avete vissuto questi primi 4 anni e che cosa prevedete per i prossimi? Buongiorno, CNP Partners ha vissuto questi primi anni in cui la Cvacco Brucco ha deciso di espandere il proprio business in Sud Europa attraverso una branch italiana che lavora in LPS, cioè in Libra Prestazione dei Servizi, ha vissuto questi anni di grossa espansione dei prodotti assicurativi nel risparmio vita, cercando di proporre al mercato uno dei prodotti più unici in termini di polizze multiramo. Il mercato in quanto tale in questi anni ha avuto una grande espansione. Noi siamo giovani e stiamo puntando e investendo molto per affrontare il migliore dei modi i prossimi anni. Ecco, diciamo, in questa vostra gioventù come intendete muovervi nei prossimi anni? Avete delle... che prodotti intendete proporre? Come intendete proporvi? Beh, noi abbiamo un prodotto multiramo estremamente flessibile che dà la possibilità al nostro distributore partner commerciale e cliente finale di modulare quello che è l'investimento tra gestioni separate, quindi garantite dalla compagnia assicurativa e unit, linea profilo e una piattaforma delle migliori casi di investimento che vengono ovviamente ognuna selezionata per le proprie competenze in ogni asset class e dà la possibilità al singolo investitore di scegliere il proprio fondo con una serie di servizi accessori tali da permettere al cliente barra al gestore della relazione di monitorare costantemente il profilo rischio e rendimento del prodotto e attraverso una rendicontazione chiara e trasparente e un sistema di controllo tecnologicamente avanzato modulare quella che è la composizione interna dei fondi in modo tale da poterlo anche cambiare sia in relazione al proprio obiettivo di investimento, al proprio personale obiettivi orizzonti temporali di investimento sia alle mutevoli condizioni di mercato che abbiamo visto nel 2016 in particolare in questo anno essere state particolarmente volatili, la volatilità è stata diciamo nel primo mese e mese dell'anno una delle volatilità più alte degli ultimi vent'anni. Infatti hai fatto accenno al controllo del rischio in rapporto al rendimento quindi ponete particolare attenzione a questo fatto? Assolutamente sì, tra l'altro qui al Salone dei Risparmi noi stiamo lanciando un'iniziativa quindi cerchiamo di innovare nella nostra proposizione commerciale attraverso un'iniziativa che chiamiamo 2P, Progressive Investment e protezione del capitale che permetterà al cliente nei prossimi mesi, chi vorrà investire nel nostro prodotto, di investire inizialmente il 100% in due gestioni separate, cosa che il mercato oggi sta chiaramente cercando invece di rallentare in termini di sottoscrizione perché le gestioni separate sono un costo molto elevato per le compagnie e per le banche, noi diamo questa possibilità in modo tale che nei successivi 3, 6, 12 mesi quindi a periodi prestabiliti almeno il 50% possa essere switchato su prodotti che investono direttamente sui mercati finanziari. Questo ha l'obiettivo semplicemente di attutire quello che è il rischio timing di mercato e quindi la volatilità stessa poi del prodotto. Bellissimo, allora grazie Marco Romani, responsabile Unit Linked CNP Partners Italia.